non puoi perderti il meglio di bike show tv rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di bike show su youtube bike show tv è anche social network frequenta la fan page bike show tv o diventa amico della pagina ufficiale bike show i gotta hangover whoa i've been drinking too much for sure i gotta hangover whoa i got an empty cup pour me some more so i can go until i blow up and i can drink until i throw up and i don't ever ever want to grow up i wanna keep it going keep keep it going 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 bike show tv adesso è talk show you shake my nerves and you rattle my brain too much love drives a man insane you broke my wind but what a thrill goodness and grace is great balls of fire i let you love what i thought it was funny you came along and woo now honey i've changed my mind this love is fine love is just great balls of fire kisses baby mmm feels good hold on me baby well i want to love you like i love you should you're fine so kind i want to tell this world that you mine 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 that you find leo dunce and i twit all my thumb i'm real on earth but it's sure it was just fun come on baby it drives me crazy it's just great balls of fire it drives me crazy well my friends of bike show we are here at Lissone at Bicimania today is the first Agostoni Grave today is the first edition of this Grave it's beautiful it's going to go through some historical paths as we have told you and we will tell you our protagonists follow us because there are great guests wow kiss me baby wow feels good hold me baby wow to love you like the love is just you're fine so kind you tell this world that you mine 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 it ain't your Rebecca bet on my thumb real nice somebody's show it's fun come on baby Grazie Nel Nilo, ciao a tutti, due percorsi che percorreranno ovviamente le strade della Coppa Agostoni, abbiamo 15 settori di passaggio tra lo sterrato e l'asfalto dove c'è la nostra gara storica di professionisti e la storica Marathon Quindi non è che c'è intenzione di fare strade tipo strade bianche e sterrati con la Agostoni? No, no, assolutamente no, non ce lo possiamo permettere, però comunque l'idea, il mio cruccio, il mio sfizio potrebbe essere fare la parte di Giovenzana, un nuovo percorso, però al momento ancora no Bene, oggi si parte qui da Bicimania, siamo a Lissone, siamo tanti amici, tanti ospiti qua, escampioni, professionisti Sì, assolutamente sì, sono contentissimo che abbiate accettato, tu compreso, di essere parte dell'evento, questo è il nostro primo evento dell'anno, lo Sporchere Mobile di Lissone si è rigiovanito Abbiamo avuto una nuova linfa vitale con tutti i ragazzi che mi stanno dando una mano e abbiamo, questo è il primo appuntamento, poi avremo settimana prossima la gara dei giovanissimi Poi faremo una gara running e poi la grande Coppa Agostoni Bene, quindi andiamo a raccontare oggi la prima gravel, l'Agostoni gravel E' una sorpresa, nel senso che non voglio anticipare niente, la racconterai dopo che tu l'hai fatta, le percorse e mi saprai dire cosa vuol dire fare del gravel in Brianza Bene, andiamo a incontrare anche gli altri amici, ci vediamo dopo Assolutamente Silvia Vasecchi Silvia, sei pronta per la grave? Sì, oggi sì, oggi ho avuto il via libera Ma non fai l'acrometro eh? No, no dai, io seguo un attimo, vedo se c'è qualche intoppo e poi vi lascio sfogare Allora, tanti anni da professionista, tanti anni, tantissimi successi anche così Adesso cosa fai di bello e come ti godi la bicicletta? Adesso lavoro qui in negozio in bici mania, sono un'adetta all'abbigliamento e la bici sì, la vedo saltuariamente ogni tanto E' diventato proprio un piacere, sento proprio la necessità di uscire e scaricare La vivo in un modo diverso La bella differenza, quando si corre e poi dopo quando si smette ci si gode di più la bici? Certo, certo, si gode di più la bici, si gode di più anche della compagnia di chi trovi per strada E' tutto molto diverso Che fai? Attacchi in Gilberto? Pronti via! Attaccalo subito, almeno lo metti in crisi Certo, certo Andiamo, corto o lungo? Lungo Accidenti, che figuracce che facciamo Ci vediamo dopo Ok, ciao, buona vedata Allora ragazzi, siamo ormai a pochi minuti dalla partenza da prima a Gossoni Grave Allora, Stefano all'occhio Ciao Stefano Ciao Pronto? Sì, pronto Ragazzi, l'ora legale ha sfasato tutto, ci ha fregato No, ormai faccio il corridore vero, alle 10 ero già letto Alfredo, ci crediamo che alle 10 ero già letto? Assolutamente sì, ma pasta in bianco, fettina di pollo Certo, beh, gambe sotto il cuscino e quindi siamo a posto Allora Stefano, tanto sempre grandi impegni e qua però ci si diverte in compagnia e si pedala con la grave Sì, gli unici sfoghi che abbiamo è il sabato e la domenica e cerchiamo di divertirci il più possibile Lungo o corto? Sempre corto Ragazzi, andiamo? Andiamo, 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 andiamo piano piano, eh 25 di media vanno bene, eh Danilo? Un po' troppo, anche meno Anche meno Mi stai amato anche meno, ragazzi Andiamo Lui, lui, con la ciletta elettrica, non è un progetto Ma la tengo spenta, dai Sì, vabbè, ci credo Proviamo Allora, controlliamo le batterie dopo Continuiamo le batterie E ragazzi, uno degli amici, uno degli ospiti Ale, Ale, Alessandro, vieni, Alessandro Bertolini Pronto? Buongiorno, buongiorno, prontissimo, sempre pronto Carlo, che stile? Da strada a grave? Eh, bisogna adattarsi qua perché le esigenze del ciclismo sono tante, no? Motorbike, strada, gravel, facciamo tutto Ormai gli stradisti si stanno portando sempre di più sul grave, giusto? Ma allora, diciamo che noi trentini un po' di meno in gravel perché i sentieri sono molto tosti e ci vuole sempre la mountain bike Però nella pianura dove ci sono gli argini la gravel è una grandissima soluzione anche perché ti porta via dal traffico, dal casino e dalla strada Allora, oggi pedaliamo, ci sono un po' di amici, c'è Stefano Allocchio, c'è Alfredo Zini C'è il tuo socio? Eh, il mio grande capitano Gilberto Simone Allora, avete fatto vittorie, soddisfazioni, emozioni insieme? Allora, con Gilberto abbiamo fatto tutto, si può dire Dal giovanile ci siamo scontrati, rivali, amici, squadre insieme Abbiamo lavorato, diciamo, a 360 gradi Siamo tuttora grandissimi amici e oggi condividiamo questa bellissima manifestazione Che ringrazio la Mobile di Sone per avermi invitato E con grande onore oggi voglio essere qua perché avendo vinto anche due volte l'Agostoni Insomma, per me è un grande piacere essere qua a Lissone in bici mania e con loro Allora, due Agostoni, un albo d'oro da paura perché se andiamo a leggere la storia dell'Agostoni Troviamo nomi veramente da brivido È una grande soddisfazione essere in questi albi d'oro, in queste gare? Beh, senza un po' di dubbio, naturalmente Agostoni è un calendario storico È un calendario, diciamo, del programma delle gare italiane Dove vengono tutte le più belle, diciamo, del passato E anche oggi è una gara dove fa la sua Insomma, è ritagliata in un calendario importantissimo Con grandi squadre presenti sempre tutti gli anni E la Mobile di Sone è molto brava perché è attiva da anni a organizzare questa gara Andiamo a pedalare? Andiamo a pedalare! Fatti! Fatti! Ragazzi, è ancora magro, guardate com'è magro Gilberto Simone, ciao Gibo Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti Allora, 85 km oggi? Beh, sicuramente, dai, sei la prima di essere fatta bene Ma poi a Fidel Conti mi piace ancora pedalare, quindi... Poi, dopo, dobbiamo arrivare quando? Se arrivare stasera? Senza problema Allora, vedete la differenza I velocisti, ha detto il corto Invece il Gibo, è uno scalatore, ha vinto i giri d'Italia, ha detto lungo Ma no, per il corto non mi cambiava niente Scendevo direttamente in pigiama E... no, dai, la giornata è bella Quindi, insomma, approfittiamone Andiamo a pedalare, allora? Andiamo, andiamo, ci si vede dopo Ciao ragazzi Allora, 5, 4, 3, 2, 1 Buon divertimento a tutti Allora, 5, 3, 2, 1 Allora, 5, 3, 2, 1 Allora, 5, 3, 2, 1 4, 3, 1, si vede però Passate allu Grazie a tutti 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 Marito e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Corto 2 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buongiorno a tutti Grazie 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 a tutti